Il nostro NQI GT è un modello NIO molto popolare e amato da tutti gli utenti della NIO. Tuttavia alcuni paesi hanno strada più connesse che influenzano l'esperienza di guida. Abbiamo esaminato come possiamo rendere questa esperienza di guida più piacevole e più sicura, pertanto siamo orgogliosi di presentare il nostro grandioso NQI GTS. Abbiamo migliorato le sospensioni, aumentato la dimensione delle ruote e ottimizzato il motore. Anche disponibile versione sport dove la potenza della batteria, il tempo di ricarica e l'autonomia sono differenti. Questo combinato con tutte le funzionalità standard di NIO rende NQI GTS il top di gamma di tutti gli scooter NIO.